La provincia di Salerno ha stanziato 2 milioni 800 mila euro per lavori di manutenzione degli edifici scolastici, interventi che mirano ad aumentare i livelli di sicurezza e fronteggiare l'emergenza da covid-19. Due i progetti elaborati dai tecnici del settore edilizia scolastica e patrimonio diretto da Angelo Michele Lizio con il supporto del consigliere delegato all'edilizia scolastica Antonio Sagarese. Ciascuno dei due progetti elaborati prevede un finanziamento di 1 milione 400 mila euro sia per le scuole ricadenti nell'area centro-nord della provincia salernitana che per le scuole che ricadono nell'area più a sud. Le procedure di gara sono state già espletate e si è già provveduto all'aggiudicazione dei lavori alle due ditte appaltatrici. I lavori avranno una durata fino al prossimo agosto e riguarderanno prevalentemente opere di impermeabilizzazione, riparazione, sostituzioni di infissi, manutenzione impianti e interventi urgenti necessari per la fruizione in sicurezza degli ambienti scolastici. Un ringraziamento dichiara il presidente provinciale Michele Stianese va all'onorevole Piero De Luca per la particolare attenzione che ha sempre avuto nei confronti degli istituti scolastici del nostro territorio affiancandoci nel percorso di assegnazione dei finanziamenti del governo nazionale a tutela del diritto allo studio e della sicurezza di studenti, docenti, operatori scolastici e famiglie.